Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video assaggio Io sto morendo di fame, non so tu perché non abbiamo pranzato quindi questo sarà il nostro pranzo Ok, ovviamente questo sarà tutto in tema un po' oriente, Giappone, quindi sarà tutto un po' così Era come la sezione dedicata Esatto, ovviamente a sicure ci saranno anche altri due video assaggio quindi questo sarà il primo Però vi lascio il video giù nell'info box, ovviamente abbiamo fatto anche l'unboxing Tutti questi prodotti, che io so che me lo chiederete, non è un video in collaborazione Li ho acquistati su Planet Snack o Snack Planet? Su Snack Planet Io direi di iniziare con il salato per la tua gioia Ramen al pollo Apri La polla Non si sente niente Un po' il salato sì Sono proprio belle, guardate qua Sembra tipo quel nastro, come si chiama? No, per fare i fiocchi Pasta? Sembra tipo proprio pasta Si sente il forno però? Non si sente molto Si vuole il forno però non sono salato Sono sincera mi aspettavo un gusto molto più forte Infatti avevo paura che cosa vuole Sono molto delicati Sospiziosi Non hanno molto aroma Sembrano tipo cotti al forno Sono molto delicati Voto da uno a dieci Cinque Sei Questo è il mio detto No mi piace Ma roi ho paura A me fa senso questo cosa Allora, riso alla cioccolata Quindi fuori il riso Ok, e dentro c'è il rimieno alla cioccolata Vuoi riminta l'altra di immagini? Ovviamente dopo abbiamo anche una bevanda Allora, sono confezionati Ma sono piccoli Io pensavo a che se ne vanno Ma ce ne sono un altro ancora? No, sono due Sono otto quindi Guardate come sono Wow Non pensavo che fossero così Dai, ve l'odore No, l'odore è buono Come aspettiamo? Sì, ovvio È una sentazione proprio strana Perché? Come è? Tocca Oh, fluffy Sento un sacco il cacao Si sente Sì, è buono Molto proprio Live Cioè è proprio Non marshmallow No Lo zucchero a velo Mi sembra proprio finto Il cacao Mi sembra finto Più che altro Dai, però dai Mi pensavo molto peggio Il cacao Si sente Sospiziosi Sì, è buono Ti ho pensato tipo aniglia Secondo me Ma lo zucchero a velo è proprio finito Sopra Bellini Ok, dai Sì, ci sta Mi aspettavo peggio Si sente qualcosa tipo riso Cioè quella consistenza Però il cacao proprio assai Forse posso dire Che abbiamo fatto bene A prendere questo gusto E non gusto fruttato Perché secondo me Questi fruttati sono più chimici No, no Cacao Un po' L'idea Ti sente Però Tutto sommato Dai, no Ci stai Pure la consistenza Mi piace Una a dieci Io sette Per me sei Sì Sei mezzo sette S'ufficienza Un po' costine La texana Pringles Mamma mia Quanti grammi sono? Un po' capito Un po' capito Non è forte No Oh, sono buone Questi sono buone Questi sono da prendere Non riesco a decifare il gusto No Non ti amo Non sono forti Il gusto si sente Bello Però Non è molto Come si dice? Stucchevole No, stucchevole Però sai che sento Un po' di salsa a barbio Quando le continuo a mangiare No, che buone È quel gusto che uno dice Tipo beco Cioè no Non riesco Si sente tipo Che affumicato D'arne A barbio Che ho visto È tipo Che quel gusto Che dici Non lo so descrivere Però Se lo svolate Prendetelo Uno tira l'altro Questo Io un belotto Ne lo do Anche io Un belotto e mezzo Buono Mi sono diventata Che questo Pesca bianca Gusto pesca bianca Che bella Mi sta confesendo L'ho fatto di dire pure Pesca bianca Non so come la pesca bianca Però pesca Vincita Oh è particolarissima Buono Bella fredda Pure Ma è buonissima Pensa non mi sta Mettendo in frigo Ah so Io penso che sta Vaggiando No Buona Piacevole Per dirlo tu Che tu sei molto complicata Però è molto delicata Non è chimica Sembra proprio pesca bianca Secondo me è calda Però No calda no Bella fredda L'ho messa stamattina Tutto Dio Se dobbiamo registrare Fammela mettere un attimo In frigo E' buonissima Eppure non è proprio Fredda 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 Ed è buona Immagina questa fredda Col ghiaccio La cassata Con Si sente questo accenno Di pesca Mi piace tantissimo Delicato Approvato Approvato Dai 7 ci sta 7 e 8 Mi è piaciuto Ottimo Ci stai piacendo tutto Allora Di pesciolino Ma la patina di ci sta Cioccolato Biscotto croccante Ripieno di cioccolata Ah ma sta scritta Rede Senti l'odore Rede No vabbè Adesso ti ha un bel morso A testa Si si Io inizio Tu vuoi la testa La coda La coda La coda Un morso Pieno Mamma Sento Le waffle Da qua Un po' scarsina La cioccolata Dentro Tipo Granelli Fizzosa La coda Più il buffer La coda Che la cioccolata Alla fine Però meglio così Dai però ci sta Mi piace Nulla di Sufficienza 6 e mezzo Yakisoba noodles snack Più forte Più scuri guarda Non so Spero che non ha quel sapore Ci vedo più aroma sopra però Facci caso Mi sembra tipo L'odore Tipo dei Satebon Questa è più forte Però sinceramente Sarebbe più fresco l'altro No Più questo Sì Mi piace Sarebbe molto forte Per me così No Guarda il buono Non so Di cosa Non so Il sapore Mi sembra proprio Quello noodles Che provai No Scusate Quello Sarebbe buono Che provai Con le verdure Alla fine Penso che sia un piatto Che All'interno C'è questo più buono Invece quello si sentiva Con il retrogusso Di non bruciato Però di Ma io provisco di più Quello Dammi come la me Questi Vendete questi Siamo amati i sapori Però Pugli Ma rovo Meno male che Siamo Non so Come è fatta accadere Così Il pesce Si deve salvare Io Sette Io Io Sette Mezzo No Si sente Proprio Bruciata Pensavo All'interno Di pregiudizi Devo ammetterlo Pure io Però Ci è andata Molto 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 Bene Pensavo Peggio E quindi Nulla Noi speriamo Che questo video Vi sia piaciuto E noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao Ciao Ciao